Ben trovati da TG della mobilità, da oggi decate l'obbligo del Green Pass a bordo di Bustram e Metropolitane, resta l'obbligo di indossare le mascherine FFP2, ultimo giorno di lavori di manutenzione tra le 21 e le 6 sul viadotto della Magliana, nel tratto da viare del pattinaggio e via della Magliana in direzione di Fiumicino, deviate le linee 31, 771 e 780, stanotte consueta chiusura delle ZTL notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo, dalle 23 e le 3. Ricordiamo stasera orario lungo per il servizio delle Metropolitane, ultima corsa dal Capolino all'1.30 di notte e servizio prolungato anche per il tram 8, ultima corsa da Casaletto alle 3 e dal Capolino di Piazza Venezia alle 3 e 29 circa. Grazie a tutti.